Borse, cosmetici, accessori, gadget, giocattoli, ma anche libri, occhiali, capi di abbigliamento, scarpe, auto e moto, casalinghi, vino, biciclette, prodotti elettronici, fino ai sistemi di allarme e ai servizi di pompe funebri. Sono gli articoli più acquistati sul web, anche attraverso i siti delle 609 imprese marchigiane operanti nel settore delle vendite online. Un fenomeno in crescita, quello delle imprese che vendono esclusivamente online, ma che ha avuto come contraltare una crisi delle imprese tradizionali del commercio. Lo sostiene la CNA Marche, che ha confrontato i dati Infocamere e Move Imprese e i dati Istat delle imprese del commercio online e di quelle tradizionali. Alla fine del 2018, afferma Otello Gregorini, segretario CNA Marche, le imprese marchigiane che vendono esclusivamente online i loro prodotti erano 609 rispetto alle 180 del 2009, con una crescita di 429 imprese. Si tratta di aziende che hanno registrato in questi anni di crisi una espansione del loro fatturato e della produzione, riuscendo a raggiungere grazie al web i loro clienti in ogni parte del mondo e ad acquisirne di nuovi sia in Italia sia all'estero. Nello stesso periodo le imprese di commercio al dettaglio nelle Marche sono passate da 20.142 a 18.798, con la scomparsa di 1.344 imprese in 10 anni, una perdita di 3.000 addetti e una forte riduzione di vendite e fatturato. Una crisi più accentuata nei negozi di vicinato dei piccoli centri urbani e montani. Nel solo 2018 le vendite online sono aumentate del 13,6%, mentre quelle tradizionali sono calate dello 0,6%. Una contrazione quasi inesistente per la grande distribuzione, meno 0,1%, ma che sale all'1,5% per i piccoli negozi. Per quanto riguarda le modalità di acquisto, sempre più passano attraverso gli smartphone, 31% rispetto al 25% dell'anno precedente, mentre calano gli acquisti da computer, da 67% al 62%, e restano marginali quelli da tablet che coprono appena il 7% degli acquisti online. Per le imprese marchigiane del commercio sostiene Gabriele Di Ferdinando, responsabile CNA Marche Unione Commercio e Turismo è fondamentale cambiare drasticamente atteggiamento nei confronti del digitale, per investire in tecnologia online e per servire digitalmente i clienti. Ma per fare questo serve anche il sostegno delle istituzioni, che devono assicurare un'adeguata copertura della banda larga su tutto il territorio regionale. Inoltre per le imprese è importante investire nella promozione online, perché l'82% delle persone che fanno acquisti, anche in negozio, si informa su internet.